Ciao ragazzi, vi presento lui, Sibur 100C, modello americano a tasti, quindi non una rotella, hanno 1952, 50 dischi, 100 selezioni, gettoniera funzionante, 5 penni, con un 5 penni abbiamo diritto a una selezione. Mettiamo, mettiamo B5, non lo so, meccanone ci sono dentro, B5, ha preso la selezione, tac, sta andando, lo faccio vedere da vicino. Come potete vedere è un conservato, quindi non restaurato, è un conservato, in uno con legno può farlo di libero, di scuro, più chiaro come vuole, però è originale così, molto bello. Diretto volendo abbiamo anche un micro tasto dove schiacciare e mettere le selezioni senza dover mettere ogni volta la moneta. Tutto via, mi città, cerchè, cerchè.